Abbiamo fatto una settimana regolare, una settimana dove abbiamo potuto avere continuità nelle sedute di allenamento. Non è tanto il pensare alla propatria, ma il tanto sapere di affrontare una squadra che ha fatto un punto nelle ultime tre partite. Vengono due sconfitte di fila, c'è comunque quel momento un pochettino di tensione, quel momento particolare che una squadra esperta e che una squadra coesa come la propatria sicuramente sa gestire. Allo stesso tempo però bisogna considerare la sfumatura emotiva che ti porta, come spesso succede in queste situazioni, a dare qualcosa in più. Noi pensiamo a noi, noi pensiamo al fatto che comunque abbiamo pareggiato un derby e siamo stati rimontati a tre minuti dalla fine. Ce l'abbiamo bene in testa il perché, abbiamo bene in testa il fatto che come era prevedibile alla terza partita di una settimana era importantissimo andare in vantaggio e togliere entusiasmo all'ecco. In parte l'abbiamo fatto, in parte no. Adesso durante la settimana siamo ritornati a lavorare, abbiamo rifatto il nostro ciclo settimanale con i doppi allenamenti, con le sedute di gara e i momenti di gioco adeguati. Dobbiamo presentarci la partita a livello agonistico, quindi psicologico e fisico a 2000 per essere ancora protagonisti come abbiamo fatto sempre in questo campionato.